Salve a tutti, sono Lawrence McKinner, questo è un nuovo vlog, episodio, vlog, quindi finalmente vloggo e volevo parlare di una cosa oggi ero un po' giù ero perchè sono leggermente messo meglio comunque mi sentivo un po' fragile e ho pensato di fare un vlog su questo sulla fragilità sul concetto di fragilità sul fatto che molti, praticamente tutti diciamo che la società odierna fa pensare, cioè ci mette in testa che la fragilità è qualcosa di sbagliato, non corretto avere dei sentimenti subire dei propri sentimenti diciamo non siamo noi che li usiamo ma sono i nostri sentimenti che ci usano, che ci strappano alla nostra quotidianità è qualcosa di sbagliato è qualcosa che non va bene invece no, io credo che sia qualcosa di naturale perché non è vero che io non credo che gli animali non abbiano dei sentimenti anzi cioè i mammiferi mostrano tutti i giorni di avere dei grossi sentimenti rispetto ai nostri padroni rispetto a qualcuno a cui sta che gli sta cioè chi acquista insomma hanno sentimenti hanno simpatie antipatie hanno tutto questo allora perché noi non possiamo essere fragili perché dobbiamo avere un lavoro perché dobbiamo correre tutti i giorni e cosa c'entra? oggi mi sono svegliato e mi sono sentito fragile e non ci non ci trovo niente di male sinceramente la fragilità è una parte importante di noi dobbiamo vederla perché credo che sia comunque un sintomo qualcosa per dire che dobbiamo riflettere sulla nostra vita senza fragilità senza senso di tristezza di abbandono non possiamo vedere le cose come stanno e magari andiamo avanti finché non c'è veramente qualcosa che ci spezza che ci dilania che ci fa stare davvero male allora dico che la fragilità è qualcosa è una parte di noi non è un sentimento la fragilità la tristezza è un sentimento cioè è un'emozione anzi non è un sentimento caffè ma comunque è qualcosa che non dobbiamo lasciare in un cantuccio e dire no non va bene perché dovremmo farlo anche con i sensi con altre cose con altre emozioni altri sentimenti e invece noi siamo noi stessi accogliamo la nostra fragilità la nostra depressione i nostri problemi perché è l'unico modo per poi affrontarli veramente perché abbiamo sempre diciamolo noi esseri umani abbiamo questo delirio di onnipotenza di fare qualsiasi cosa dobbiamo dominare ogni cosa dobbiamo mettere dobbiamo sapere come attivare e disattivare ogni singola cosa come se fosse un elettrodomestico e invece no su certe cose noi non abbiamo potere e dobbiamo accettarlo sembra un discorso molto contro gli psicologi questa cosa ma non dico che contro gli psicologi dico che appunto perché vogliamo capire come siamo fatti dobbiamo accettarci anche nei momenti di fragilità è inutile nascondersi dietro a un sorriso dietro a qualcosa oggi mi sento un po' così mi sento un po' rotto ed è giusto così quindi questa cosa qua è un modo per sfogarmi ecco io consiglio a tutti di fare questa cosa non mi interessa se qualcuno poi sotto mi mette dei commenti del cavolo può farlo benissimo poi se li troverò particolarmente offensivi li toglierò magari lo bloccherò anche se continuo a farlo se no li terrò lì non è un problema non è che siccome sono dei commenti magari potrebbero mettermi dei commenti negativi allora non metto un video oppure ricancello dipende dai commenti dipende dalle cose io comunque consiglio a tutti di sfogarsi magari in questo modo piuttosto che in un altro non è un problema e accettarsi e sappiate una cosa andare dallo psicologo dallo psichiatra non è una cosa da matti se ne sentite davvero il bisogno andateci ovviamente non con la pretesa che gli psicologi fanno tutto il lavoro dovete loro vi aiuteranno oppure no dipende dallo psicologo comunque diciamo che un buono psicologo cercherà di aiutarvi e magari riuscirete a risolvere qualcosa comunque accettate le vostre tristezze le vostre la vostra dilgatezza accettate ogni parte di voi non no no questa cosa non va bene quindi stacchiamola togliamola da noi non accettiamola in tutti i modi e questo è il discorso c'è il fondo che a me non piace del caffè e questo è il discorso il discorso che volevo fare non sapevo se metterlo su video metterlo su blog ma ho voluto far così non so se avete notato che ho modificato l'immagine di Laura S. McKinder e niente se qualcuno si vuole iscrivere a questo canale è libero di farlo mettere un mi piace lasciare un commento c'è anche la pagina ufficiale di Facebook che troverete comunque tra le cose sul canale io non la metto quasi mai qua sotto dovrei farlo in teoria ma vabbè comunque sfogatevi questo è il discorso sfogatevi vi saluto ragazzuole ciao Ciao.